Salve cari oscuri e benvenuti in questo nuovo episodio di Sonic the Angel Seagher Ok, sono a questa zona che la terza zona è abbastanza odiosa, più della seconda Perché per le trappole, non per l'altro, che io sinceramente odio E poi per questa sinistra, questi cavoli di rinizi possono beccarti e ammazzarti subito Ahia, ho fatto questo, chi era? Era un Metal Sonic fatto male O per quella non l'avevo vista, sinceramente Poi mi sa che farò abbastanza difficoltà, raga, a fare tutte le due, tutte le tre parti insieme Sare le due Vabbè, verrà comunque difficile Per mia fortuna ho il salvataggio automatico sulla Switch Guarda a te, non si può neanche fuori Oppa Sonic vola Meglio di Super Mario Bene, prima zona finita in 2 minuti e 9 Anche se lì, anche se il gioco segna 2 minuti e 7 Seconda zona Anzi, meglio salvare Ok, bene, in caso faccio un taglio se qualcosa capita male Come ho fatto per il penultimo episodio su Sonic Adventure sul Game Boy Che meno male che sono alla fine con quello di Sonic Ma meno male Che poi dal secondo sarà più brutto per me E' più faticoso visto che lo vorrò fare tutti quanti i personaggi It's ok, secondo Sonic Come ho detto più volte sul Game Boy è l'italiano Peccato che su questi Sonic Adventure 2 e 3 Tutti due boy Cioè Advance, non Adventure Vabbè, i titoli sono tipo uguali Quindi è pazziare confondersi Non ci sia Sado da utilizzare Ovviamente questa cosa E' la cosa più brutta Dei capitoli di Game Boy Che non ci sia Sado Vabbè, al tempo Quando sarà solo Sonic Non Sado Potevo dire, ok, va bene Non mi importa Di questa cosa Ma ormai Aver visto Sado Aver giocato sulla Prey 2 In gioco suo Penalmente è una cosa ingiusta Dico, se avessero fatto Non so Anche un quarto capitolo Di Sonic Advance Dove c'era anche Sado Come personaggio giocabile Che mi andava bene Ma non l'hanno fatto No, cavolo Qua ho sbagliato Bene Ok, questa volta non sbaglio Una parola Queste trapole Sono veramente odiose Ma pensavo che fosse un passaggio Qua Qualunque dover fare una bella classifica Forse delle colonne sonore Dei videogiochi Perchè tra le colonne sonore Ecco Questa è una che a me piace molto Come in Pokémon Zafio Quando si usa sub Per andare a bombare il team Magma O il team Hydro Dove c'è chiudere o un grondon Che si svegliano e poi scappano via Veramente non c'è molto quella colonna sonora Ma Tanto Fade è elevato a Eggman Ma non ne sono sicuro No Stupido Maledetto Vai Pendila in corsa Piano E poi piano A uno che va veloce Non lo so Vabbè Vado di qua Dai muoviti Ok Non posso prendere di qua Provevo Splicarmi prima E' questo momento che fa le scalate Uno Due No E' che cavolo Dai Che odio Che odio Queste cose Meno male che non hanno creato come con Mario Un Sonic Maker Veramente io avrei messo Avanzanza di queste cose Ho perso una vita Concentrazione 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 E qua Sono arrivato allo scontro Direi di fare un bel salvataggio Che poi qui sull'astruzione è anche più comodo Della Del computer Ma no Dai Dai Si però me lo fai apposta Insomma Il potino non aveva neanche estratto Lo usato contro E non lo estrae E non lo estraeva Mi dico conto Lo cazzo Lo tira fuori Ma dai La presa è in giro No Ok uno No Dai vieni qua, vieni qua Dai vieni qua Dai vieni qua Vai Bene ci ho messo 11 minuti e 34, 5, 4 per battere Eggman di 5 minuti e 9 bene bene ora ci vediamo alla prossima zona Labyrinth Zone Bella